Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori alla conquista della promozione o quantomeno dei playoff. Diciamo che il percorso non sta andando male, abbiamo alti e bassi però in classifica eravamo messi bene, se non sbaglio. Adesso c'è una partita di coppa del 17 che messe siamo a novembre 2020. Però signori, prima di partire dal video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che è data questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram dove tramite le stories vi aggiorno sui video che escono sulla programmazione e anche sul sito Viola in cui andiamo sempre in live e giochiamo assieme. Quindi se volete farvi una partita con me mi trovate sempre come Maullo941 anche sull'altra piattaforma, quella Viola. Detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok signori, allora, prima di tutto, prima di andare avanti io ho il mio allenatore in seconda, ovvero Frenzy, che tramite i commenti mi dà tutte le dritte e tutti gli errori che noi andiamo a fare. Allora, prima cosa che dobbiamo andare a sistemare è quella di andare a creare un nuovo schema squadra, signori. Allora, vediamo se riusciamo a farlo questa volta. Modo limore cambe, vediamo. Perché lui mi è stato detto che devo fare di aggiungere un nuovo schema squadra. Come cazzo là si fa? Non è così. Schemi squadre, ok, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Nuovo schema squadra, ok, ci mettiamo panchinari, no, ci mettiamo titolari, che panchinari? Allora, faccio questa piccola cosa, signori, e ci vediamo dopo. Ok signori, ci siamo riusciti, abbiamo fatto le due formazioni, ovvero quello predefinito lo lasciamo perdere. Abbiamo i titolari, che sono Stockholm, Leesmith, Giardino, Kanon, Wilding, Sullivan, Menloor, Davis, Lavelle ed Henry, e con portiere Allstad. E quello dei panchinari, che invece, panchinari, sì, abbiamo Aladino, Slow, sì, giusto, Aladino, Slow, Sullivan, che purtroppo su quella fascia abbiamo solamente lui, Songo, Diagura, Pringles, Gibson, Percival, Davis e Vazela. Perfetto, è Mendez. Poi, altra cosa che mi ha sempre detto il mio carissimo amico Frenzy, ovvero il mio allenatore in seconda, signori, perché come mi dai consigli di lui non me li da nessuno, che dobbiamo fare il cambio di ruolo di Vazela, dobbiamo confermare il cambio di ruolo di Vazela, che non so niente come si faccia. E l'abbiamo fatto, signori, abbiamo confermato il cambio di ruolo, abbiamo confermato il cambio di ruolo a Vazela, che adesso è un esterno destro. Va bene, va bene, in questo momento se noi andiamo qui su panchinari, che lui è il panchinario scelto, Vazela dovrebbe uscirmi come esterno destro. Perfetto, ok. Aspettiamo che decidano di cambiare anche Osongo, poi abbiamo Jardin, che sta cambiando da esterno destro a esterno sinistro, e anche Osongo e Kanon, che in questo momento non vedo, è Kanon, che sta pure cambiando ruolo per diventare un centrocampista normale. Vediamo se decidono loro di darsi una svegliata e cambiare il ruolo. Beh, andiamo, signori, sono felice dell'elevato minutaggio, apprezzo il tuo impegno. Chi sei? Mellor. Va bene, mi fa piacere Mellor, ma sei l'unico su quella fascia, quindi mi devi giocare per forza. Ok, anche se adesso abbiamo Vazela. Volevo solamente vedere una cosa, signori, una volta che, perché in questo modo noi abbiamo perso un difensore centrale. Che abbiamo qui? Abbiamo... Il nostro Victor, lo chiamiamo così. Il nostro Victor che ha un potenziale da 67 a 75, un difensore centrale. Due stelle e due stelle, 47, mamma mia, obrobrioso, obrobrioso, signori. Niente, per ora ci... Niente, vediamo se troviamo nelle prossime ricerche dei nostri osservatori un difensore centrale da poter mettere tra i panchinari, perché in questo momento siamo messi un po' maluccio. Allora, andiamo avanti verso la prossima partita che è di Coppa contro il Port Vale, signori. Ripetizione del primo turno, perché l'andata l'abbiamo pareggiata. L'andata l'abbiamo pareggiata 1 a 1. Quindi, vediamo se riesce ad andare avanti, perché siamo un attimino leggermente bloccati. Se è rincogliente... Ah no, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ok. Ce l'abbiamo fatta contro il Port Vale. Selezioniamo i panchinari, signori. Giochiamo con i panchinari, sì, 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 confermato, confermato. Giochiamo con i panchinari, vediamo se riescono a fare il miracolo pure in questa partita. Perché l'ultima volta hanno giocato benissimo, anche se, dico, non penso che sia fattibile la cosa. Con i panchinari, vediamo che famo, signori. Stavolta siamo a casa nostra, perdiamo 1 a 0. E vabbè, è entrato lei Smith per slow. Va bene, va bene. Così intanto hanno giocato i nostri panchinari e sono contenti che si sono giocati un'altra partita tutti quanti assieme. Ok, questo ci interessava poco, signori. Noi in campionato siamo sesti a 30 punti. Ok, tutti a parità di partite giocate. Andiamo avanti. Giorno 20, altra partita di campionato contro il Grisby. I biscotti, signori, stiamo a giocare contro i biscotti. Andiamo con i titolari. Davis è leggermente stanco, ma non c'è che farci. Non ho difensori centrali da poter mettere al suo posto. Se le deve giocare tutte. Dai e Davis. Ah, comunque la squadra la possiamo selezionare pure da qua. Interessante questa cosa. Dai e così, simulazione veloce contro il Grisby. Contro i biscotti, signori. A casa nostra, che fa? Vinciamo 1-0. Col di Davis. Grande. Spettacolo, signori. Bella così. Bella così. Altri tre punti importanti. Tre punti importantissimi. L'obiettivo minimo sarebbe il playoff, signori. Siamo quinto a 33. E dico, secondo me li potremmo raggiungere senza problemi. Senza problemi li potremmo raggiungere. Vediamo un attimino questi allenamenti. Se li abbiamo fatti tutti. Vabbè, c'ho due A e un non fatto. Vai, allenatevi così. Lo so li dovrei fare, signori. Lo so li dovrei fare. Ma per ora mi secca. Ormai mi secca. Perché devo andare a ripetere quelli che già ho fatto. È una raga che era a rottura di scatola. Prossima partita di campionato contro il Scuntrope. Scuntrope c'era anche l'anno scorso, me lo ricordo. Giocano i nostri... Facciamo giocare... Sullivan non ce la fa proprio. Giochiamo con i panchinari, signori. Giochiamo con i panchinari. Giochiamo con i panchinari. Siamo fuori casa. Dai, 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 dai. Che famo? Vinciamo 3 a 2. Spettacolo. Gol di Mel Gibson. Gol di Slow. E gol di Aladino. Bello. È uscito Sullivan per Giardino. È uscito Davis per Lavelle. Va bene così. Va bene così. Mi piace. Questa rotazione di giocatori mi piace, signori. Mi piace. Dai, dai, dai. Voglio giocare in un'altra, raga. Famo filotto. Famo filotto, per forza. Grazie per le mie stesse squadre. Tranquillo, Kaynon. Devi imparare a cambiare ruolo, però. Questa simuliamo tutto. Bravissimi. Abbiamo preso due A e una B. Va bene così. E dai, 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 dai. Andiamo, 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 andiamo. L'ultima, l'ultima. Filotto, signori. Facciamo filotto. Sto attraversando un buon periodo. Mellor. A Mellor mio. Qui la giochiamo con i panchinari. Mellor mio. Alla giochi, la giochi. Davis non ce la fa più. Davis si dissipiderà un'infortuna e ce la metterà nel popò, praticamente. Dai così. Con i titolari. Contro il Mansfield. Town. Famo filotto, signori. Tre vittorie su tre. Tre vittorie su tre. Dai così, dai così, dai così, dai così, dai così. Due a due. Va bene. L'abbiamo pareggiato al 75esimo con Wilding. Va bene. Le Smith e Wilding. Poi è uscito Davis per Gibson. È uscito Sullivan per Pringles. Va bene. Va bene così. Va bene così. Dai. Ottimi risultati. Ottimi risultati, signori. Non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo. Va bene, signori. Detto questo, io vi ringrazio per il guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao.